Napolè mille creature, Napolè mille color, Napolè è una carta sporca e nessuna se ne importa e agnuna spetta aciorta. Potrebbe sembrare che siamo in un basso di Napoli oppure potremmo anche essere in Afghanistan in missione. Ecco ci stanno chiamando e noi rispondiamo, sì capo siamo in missione, la richiamo dopo, siamo in missione capo, sì mi trovo nella savana, no scherzavo, sapete dove ci troviamo? Ci troviamo a Saione, centro di Arezzo e quella è Piazza Zucchi, dove poteva per fortuna non è accaduto atterrare il Papa perché domenica era uno dei possibili eliporti. Allora la nostra domanda su questa segnalazione è ma è normale che in una traversa di via Vittorio Veneto si possa verificare una cosa, satelliti, missili, mimetismi. Io credo che ci sia anche qualche patriot nascosto in questo grano, in ogni caso c'è un vantaggio che con questa aiolina una pagnotta di pane ci viene fuori. Quindi io credo che in un momento di crisi forse siamo tornati, sapete cosa? All'orticello di guerra e fittico ognuno la propria abitazione deve coltifare per poter sopravvivere.